Il giudice Wettich ha respinto l'istanza della difesa e non proscioglie l'imputato. Perciò, andiamo avanti. Non è mia intenzione parlare male della vittima, però lei beveva, e molto. Aveva relazioni sessuali con uomini diversi, e di conseguenza provocava in molti uomini reazioni violente. Non è vero. Era una persona che si metteva lei stessa in situazioni pericolose e accadeva di frequente. Non è vero. In quest'aula giudiziaria è stato stabilito che la signora Blount non aveva alcuna certezza della paternità di sua figlia. Ma cosa sta dicendo di mia sorella? Signor Blount? Sono assurdita! La prego, signor Blount. Sono tutte bugie. Sta mentendo! Signor Blount, l'avverto per l'ultima volta. Ma lui non sa niente di mia sorella. Signor Blount? Voi, voi gli permettete di dire... Signor Blount! Tutte queste bugie sono solo menzogne. Grazie. 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 Grazie.